Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, continuiamo il riassunto del flip-flop di tipo Age Triggered e vediamo i JK e i T, già visti in precedenza, ma con riassunto di tabelle e funzionamenti con clock attivo sul fronte di salita, positivo o sul fronte di discesa. Qua ho messo un andamento a caso di JK, alla fine poi è sempre un 7-reset, semplicemente la combinazione 1-1 che sarebbe non accettabile nel 7-reset invece crea il toggle, quindi il cambiamento dell'uscita. Allora, andiamo a vedere, disegnare insieme che cosa succede. Allora, arriva qua al primo fronte di salita, trova 1-0, quindi supponiamo sempre di partire con l'uscita uguale a 0, quindi arriva qua e va a 1, rimane ad 1 fino alla lettura successiva del clock, del fronte di salita del clock, che legge 0-1 e quindi va a resettare, l'uscita va a bassa, qua mi legge 1-1-0, quindi risetta di nuovo, non risetta, risetta, quindi setta e va alto, e qua legge 1-1-1, quindi fa il toggle da alto va a basso, in questo modo qua. Questo abbiamo, allora partiamo sempre da 0, primo fronte di discesa mi trova 0-1, quindi l'uscita mi va a 0, ed è già 0, rimane a 0, qua mi trova 1-1, fa il toggle, quindi è 0 diventa 1, qui mi trova 0-1, quindi va a resettare, mi va a basso, e questa poi mi trova 1-0, e quindi poi si setta alto. Ok, quindi questo è il discorso JK. Per quanto riguarda il discorso del T, già visto ampiamente, semplicemente vengono tolti, siccome poi il T viene ottenuto, si può ottenere mettendo il JK cortocircuitati insieme, praticamente la stessa cosa, togliendo seconda e terza riga, quindi abbiamo la memoria, quando T uguale a 0, e trova il fronte di salita del clock, e il toggle quando T uguale a 1, e trova il fronte di salita del clock, in questo caso fronte di discesa. quindi ad esempio qua, siamo qui, fronte di salita trova T ad 1, quindi comuta, poi questo trova A1, quindi ricomuta, e vado qua, questo fronte di salita mi trova A1, quindi va di nuovo, cambia e quindi sale, questo fronte di salita mi trova A0, e quindi memoria rimane alto. di qua partiamo da 0, allora questo fronte di discesa mi trova lo 0, quindi mantiene lo stato precedente, quindi rimane a 0, qua mi trova l'1, quindi fa il toggle e mi va alto, rimane alto fino alla lettura successiva, qua mi trova lo 0, quindi rimane in questo stato, qua mi trova l'1, e quindi fa il toggle e va giù basso. Bene, direi con questi riassunti, di essere stata, spero, piuttosto esaustiva, perché insomma ho fatto tutte le combinazioni, così credo non ci siano più dubbi, su come lavorano le varie tipologie, sia sul discorso fronte di salita, che fronte di discesa. Fatemi sapere nei commenti se è tutto chiaro, spero che questo vi possa essere d'aiuto, e ci vediamo al prossimo video.